Siamo con Marco Dalli, presidente del gruppo lavoratori portuali all'inaugurazione dei magazzini La Poduletta. Sono otto vecchi magazzini completamente ristrutturati, adibiti al traffico della cellulosa. Sì, momentaneamente direi adibiti al traffico della cellulosa perché la nostra intenzione è nel giro di questo anno poi di cominciare a destinarli anche ad altre tipologie merceologiche che possano assicurarci anche una gestione di una filiera logistica in grado di supportare meglio anche i conti della nostra società e soprattutto offrire nuove opportunità di sviluppo. Quindi fiducia per il futuro sviluppo del porto, non solo nella cellulosa ma anche in altre tipologie merceologiche. Sì, assolutamente. CILP è leader sia sul prodotto forestale, pasta cellulosa soprattutto, ma anche per altre tipologie merceologiche essenzialmente le auto. Il porto di Livorno è leader nazionale rispetto a questo tipo di traffico e CILP gestisce oltre il 50% di questo traffico, nel 2016 oltre 300.000 auto. Ma su questa scelta pesa anche i nuovi assetti societari che verranno se il gruppo di origine negri cederà le quote al gruppo al fondo inglese o è indipendente? Questo è indipendente, poi su questo potrete sentire meglio i dottor negri, però la società socia di TDT da una parte, il gruppo investimenti portuali e che era anche socia di CILP si è data un nuovo assetto per cui la parte che rimane in CILP non verrà influenzata a questo tipo di percorso. Grazie